Ciao! Io li ho trovati alla profumeria La Gardenia e sono un blush e un gloss Allora iniziamo dal blush, allora intanto guardate il packaging che è molto particolare Io non ne ho mai visti così, è scomodissimo nel senso che ovviamente non li tengo qua Però è carino, è simpatico, ecco Allora è un gloss, si buonanotte e anche caluto tutto È un blush dove c'è scritto microcirculating cheeks color Microcircolazione, insomma praticamente dietro in inglese c'è scritto che è un gel che si trasforma E dà un effetto rosato alle cheeks, alle guance Perfettamente naturale La cosa particolare è che all'inizio il gel è praticamente trasparente Adesso vi faccio vedere, lo metto anche Vedete che è trasparente questo gel qua Adesso inizia già a colorarsi, adesso vi faccio vedere Vedete che la mia guancia Ecco, guardate il mio dito E cioè, per me è veramente È fantastico Adesso non so come farvi vedere che è veramente trasparente il gel Perché prende colore poi subito, appena lo Ecco qua si vede Poi io lo prendo Vedete? Come colora Adesso l'ho dato schifosamente e tanto per farvi vedere con la telecamera Che se no non si vedeva un tubo Però è incredibile Ed ha un effetto veramente Adesso ho esagerato Però vi assicuro che è dato poco Bisogna stare attenti a non darne troppo Se no sembrate come me un pagliaccio in questo momento Però vi assicuro che dà un effetto naturalissimo Proprio È bello, bello, bello E poi vi dirò di più Io l'avevo messo per provarlo appena sono arrivata a casa E l'avevo dato Dopo ero tutta rosato Beh adesso lo tolgo e niente Mi sono lavata la faccia E era rimasto un po' di rosato proprio Adesso io non so che tecnologia Cioè guardate le mie dita Io non so che tecnologia Abbia come faccia Ma secondo me è veramente fantastico È proprio un effetto fresco Un effetto Secondo me è veramente 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 carino Poi un'altra cosa È il Il gloss Sempre lo stesso packaging Scomodissimo Il gloss si chiama Smashbox O gloss E ha la stessa tecnologia Praticamente È completamente trasparente Poi messo sulle labbra Pian pianino Adesso vi faccio vedere Che è trasparente Allora vedete Guardate Vedete che il gel È trasparente Vi faccio vedere Sulla mano Poi pian pianino Adesso vi faccio vedere Aspettate che mi guarda lo specchio Poi pian pianino Diventa sempre più scuro Adesso Lo vedrete Secondo me Si è già scurito Intanto Che aspettiamo Che vi faccio vedere Che diventa sempre più scuro Vi volevo far vedere Che lo smalto Che vi dicevo l'altra volta Questo qua Della Bipretti Alla fine È come tenuto È abbastanza buono Perché guardate Io ce l'ho adesso Da una settimana E è andato via Veramente pochissimo È andato via Un po' qua nell'indice E nel resto Si vede anche la crescita Dell'unghia Quindi ce l'ho proprio Da una settimana E sì Ovvio che L'intensità del colore Ha perso Però è rimasto Poi Vi volevo chiedere Un'altra cosa Oggi ho un po' Mi fa ridere le mie dita Oggi ho un po' Smanovrato Con le impostazioni Della videocamera Ditemi poi Se mi vedete poi meglio O no Beh Vedete che intanto È diventato un po' più scuro E la cosa buffa Cioè Buffa Nel senso Anche questo qua Quando va via Il colore sulle labbra rimane A parte che Mano a mano Che passa il tempo Le ore Diventa sempre più scuro Almeno sulle mie labbra E Adesso vi faccio vedere Con una velina Se io lo tolgo È Comunque È rimasto Vedete che il colore Delle mie labbra È comunque scuro Allora Sono sincera Non qua Non si vede molto Però vi posso assicurare Che Cioè Nello specchio Si nota Ecco Che Sono proprio rimaste più scure Il mio colore di labbra naturale Non è così scuro Bene E Ah no Vi L'ultima cosa È che Si Di solito Dico sempre Per il prezzo che hanno Questa volta Non lo dico Perché Non è che costino Poi poco Nel senso Il Il Blush Costa Intorno ai 30 euro Mentre il gloss Intorno ai 25 Io l'ho preso Un po' di tempo fa Che c'era un'offerta Che prendendo due prodotti Della Della Smashbox Ti faceva uno sconto Del 25% Però Si Non sono prezzi Insomma Modici Però Secondo me Sono Molto molto carini Poi questa tecnologia Un po' strana A me piace moltissimo Bene Spero di esservi stata utile E alla prossima Un bacione Ciao Ciao